M. Alfonsi è un consegno di Corsega e io sono un consegno rurale e per noi è un po' di forte. La lista di Jadò che sostenono non è una lista di Bobo, non è una lista di Urbans, non è una lista di Munde della Viro, non è una lista di Luzvin Ayrunt, che è un po' di partenza della sortida britannica dell'Europa. È una lista di artesani che lavorano con un vestimento, che sono un po' di tutta per il sommet di Grenelle e che fanno lavorare tutti gli artesani. È una lista di Jouves, che è sorti dal liceo, delle facoltà per il cambiamento climatico. C'è una lista anche delle calandrette che sostengono le calandrette, che sostengono l'ensegnamento pubblico della lingua occitana. E per io anche, sono un villaggio rurale, che è stato un monumento dei cimentari, che sono rebondati tantissime jubili della prima o della seconda guerra, e di amici di Montepi, che avevano a Verdun, ma dice che calco stosi l'Europa.